Che fosse un match da allarme arancione lo si sapeva già da diverse settimane, ma la sconfitta per 2-1 in trasferta a Rosolini fa molto più male di quello che si possa immaginare. Un 2-1 sotto il segno del bomber ricca, autore di una doppietta in campo nonostante il lutto del padre, venuto a mancare il 31 gennaio scorso. Tralasciando questo aspetto sicuramente toccante, il giarre calcio di Mister Mascara, visibilmente contrariato a fine partita per la mancanza di smalto da parte dei suoi giocatori, non convince perché nonostante tre chiare azioni da gol per Carbonaro, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Brancato e nonostante il gran possesso palla e 30 minuti di gioco vivace, il giarre non vince. Gambe molli, un possesso palla fine a se stesso, privo di verticalizzazioni efficaci e un attacco sterile, un solo gol negli ultimi 180 minuti, hanno deciso la gara di Rosolini, che ha saputo valorizzare al massimo la furbizia dei locali. La sconfitta del giarre e la conseguente vittoria del Camaro estromette temporaneamente dalla zona playoff il giarre, che resta fermo al palo dei 37 punti in sesta posizione. Tre punti d'oro per l'Atletico Fiumefreddo che si impone in casa sul Terme Vigliatore, importante vittoria del tecnico Fichera che fa risalire Granata in settima posizione, proiettati in zona playoff. Scendendo in prima categoria la Russo Calcio esce imbattuta dalla Verna, il derby con il Piedimonte finisce 1-1, toglie le castagne dal fuoco cartellone con un grandissimo gol. Pareggio che fa più male al Piedimonte che si fa raggiungere dal Valdinisi e lo appaia a 26 punti, Russo in risalita dalla bassa classifica che si porta a un punto dal Pisano in decima posizione. Battuta dal resto della Giovanile Mascali che sul campo di Letoianni trova una inspiegabile sconfitta. Tra Robur e Giovanile Mascali finisce 2-0 per la squadra di casa. Giovanile Mascali in discesa anche per colpa della classifica davvero corta nei piani alti del girone D, del campionato di seconda categoria. Cambiando girone e passando al girone E, sconfitta pesantissima del riposto calcio in trasferta sul campo del villaggio Sant'Agata, un 7-0 pesante che taglia le gambe alla squadra. Coach Tomaselli, visibilmente arrabbiato, lascia il campo senza passare dalle docce e medita sulla sconfitta. Possibili rivoluzioni all'orizzonte del fronte giallo-verde ripostese. Mentre al regionale domenica il calcio giarre di Mister Giordano non va oltre lo 0-0 contro i nero-verdi di Pedara. Pedara che rosicchia un po' di punti al calcio giarre che di fatto deve fare conti con il ritorno in auge delle inseguitrici al secondo posto, che sono oltre il Pedara, il Catani FC e il Piano Tavola.